Bene, benvenuti. Allora questa sarà una registrazione di riepilogo per quelli che non sono riusciti a venire o non hanno sentito o non hanno visto la lezione dello scorso mercoledì. Le lezioni si tengono in un mondo virtuale che è Craft. Vedete che qui siamo in una sim simile a Second Life e si tengono in particolare in questa aula di lezione raggiungibile registrandosi su Craft World quindi c'è proprio un sito, cercate Craft-World, OpenSim, ci si registra, ci sono tutte le istruzioni oppure si può entrare anche da grid affini tipo ElMondo o altre OpenSim usando l'indirizzo fondamentalmente che è craftworld.org 2.8002 e poi si mette 2.edu3d facendo find adesso qui non me lo trova perché sono già lì dentro ma se siete su un altro mondo ve lo deve trovare e poi si fa Teleport e quindi si riesce ad entrare. Ricapitolando, il corso noi lo organizziamo partendo da Google Classroom Google Classroom è un corso che ha fondamentalmente un codice di accesso che è questo XO29WQS un corso tendenzialmente libero però visto che andiamo abbastanza veloci chi arriva dopo le prime settimane potrebbe non riuscire a stare dietro a tutto ciò che si fa Google Classroom è molto interessante, permette di organizzare il corso quindi io ho fatto vedere fondamentalmente come è strutturato il corso il corso presenta in sintesi delle topics le topics sono classificate con opzionale o niente oppure avanzato ma seconda della tipologia di ciò che viene presentato nei topics opzionali io ho messo delle cose che ritengo utili per chi non hanno mai visto niente quindi per esempio questo primo video che permette di imparare le primissime basi di Blender per chi non l'ha mai visto ci sono anche altre lezioni ma insomma questo serve solo come primissimo impatto ma poi ho messo tutti i miei corsi precedenti degli anni passati il senso più che altro era di dare una libreria di ciò che ho fatto negli anni passati quindi vedete anche 5-6 anni fa non è inteso che lo seguite completamente però ci sono delle cose abbastanza interessanti tipo ho fatto anche dei corsi nel 2014 quindi chi è curioso se li può vedere ma solo come riferimento invece l'iscrizione allora l'iscrizione abbiamo innanzitutto io qui ho fatto il programma del corso così lo vediamo anche brevemente il corso adesso vediamo un po' se me lo fa vedere sì ecco il programma del corso sarà strutturato su collezioni trimestrali cioè trisettimanali scusate quindi ogni tre settimane farò una sezione quindi ad esempio in quella che abbiamo appena visto il 19 aprile vedremo come ci saranno dei compiti il compito da fare oltre a vedere dei video sarà quindi realizzare una sedia e fare una palizzata realistica vedete poi ci saranno una seconda sezione in cui vedremo delle texturizzazioni un po' più avanzate poi si vedrà texturizzazione vuol dire mettere proprio le immagini sulle nostre composizioni 3D poi vedremo come costruire degli edifici semplici, medievali come costruire degli edifici un pochino più complessi come gestire un po' delle strutture naturali foglie, alberi fare strade e sentieri e poi per ultimo si arriva a creare una scena da zero quindi il corso è abbastanza denso per questo motivo secondo me durerà diversi mesi la struttura del corso è fondamentalmente appoggiata a Google Classroom quindi qui vedrete tutto quello che faremo chi si è iscritto ha compilato questo questionario quindi vediamo il questionario che avete fatto ho fatto anche vedere il questionario serve a me sia per iscrivervi al corso ma anche e soprattutto per avere un'idea delle persone partecipanti e la cosa bella di questa infrastruttura di Google è che permette di vedere delle statistiche quindi vedere chi sta partecipando al corso quindi vedete che in questo momento due persone su tre dei partecipanti al corso sono degli insegnanti presumibilmente insegnanti di Edmondo ecco qui c'è da dire una cosa quindi questo corso pur essendo frequentato da insegnanti di Edmondo e quindi del circuito Indire non ha nessuna relazione con Indire lo tengo io non da nessuna certificato o punti di nessun tipo ordine grado ma serve per i curiosi che vogliono avere una infarinatura di Blender per costruire degli oggetti da mettere nel mondo ok quindi la cosa interessante è che quasi tutti sono insegnanti qui ho fatto notare che chi ha detto appunto che può dedicare meno di due ore meno di due ore beh se incluse anche la lezione tra virgolette frontale non bastano sicuramente per esperienza ho visto che tutti i corsi fatti con un certo criterio richiedono un po' più di due ore quindi diciamo che in teoria quattro ore alla settimana sono appena sufficiente e vedo che comunque una buona parte lo dice soprattutto se partite da 0-0 se invece siete già esperti magari può bastare anche di meno molte volte persone esperte partecipano ai corsi anche di base perché in Blender c'è sempre da imparare però insomma vedete voi abbiamo visto che però la maggior parte delle persone che partecipano a questo corso dichiarano 45,6% che non conoscono nulla quindi noi stiamo cercando di fare in modo tale che le lezioni pur essendo di per sé abbastanza complicate rischiano a stare a stare dietro anche a chi ha molti problemi quindi io faccio queste lezioni intervallate ogni tre settimane ma nelle due settimane intermedie ci sono dei laboratori svolti anche da dei tutor che mi danno una mano a organizzare questo corso e durante questi laboratori vengono affrontate e riaffrontati gli argomenti degli esercizi eventualmente semplificati in modo tale da dare la possibilità a tutti di stare un po' al passo i tutor che avevo elencati sono fondamentalmente a parte Gigliola che coordina un po' il corso che mi aiuta a coordinare il corso abbiamo Siberian che gestisce un po' direttamente i laboratori ma anche Eva Cry che aiuta e coordina insieme a Siberian e anche PAC 72 che ultimamente insomma si sta avvicinando e dovrebbe dare una mano ok? qui abbiamo visto da dove vengono le persone del corso e come avevamo intuito da prima sono persone che vengono prioritariamente da Edmondo poi glisso sul questionario il questionario mi serviva un po' a capire a che punto eravate diciamo che fondamentalmente la maggior parte delle risposte sono giuste però ovviamente ci sono un sacco di lavoro da fare soprattutto se voi siete nella torta in cui non si sa nulla ok allora la seconda cosa interessante che è l'altra cosa che avevamo detto è di beh innanzitutto ecco una cosa usiamo anche Facebook c'è un gruppo su Facebook dove ci coordiniamo e questo gruppo cosa fa serve per permettervi a voi di far vedere i vostri elaborati far vedere aiutarvi fra di voi si può usare anche Google Classroom come forum ma Facebook funziona nettamente meglio ed è molto più interattivo e molto più semplice quindi da qui si vedono le persone possono far vedere quello che fanno e se hanno dei problemi si discute insieme tutto abbiamo anche messo in piedi un gruppo di su Skype qui c'è il link dunque qui forse non l'ho messo ancora eventualmente lo aggiungerò qua anche il gruppo su Skype ma diciamo che su Skype serve per poter gestire situazioni in cui non si sente l'audio su OpenSIM comunque andiamo avanti abbiamo visto quindi più o meno tutti i contenuti come strutturato la cosa che mi interessava spiegarvi è che noi non facciamo o comunque non è scopo del corso fare delle classi frontali anche se magari qualcuna la vedrete ma soprattutto noi vogliamo fare la classe capovolta e per capire per quelli che non conoscono i concetti della classe capovolta vi faccio vedere queste due o tre slide che ha scritto Laura Antichi che spiegano abbastanza bene il concetto di classe capovolta Flipped Classroom la leggiamo anche perché è interessante allora Flipped Classroom è classe capovolta quindi il lavoro fondamentalmente non si svolge in classe ma la maggior parte del lavoro si fa a casa quindi si sfruttano tutti gli strumenti tecnologici che consentono di aiutare cioè di consentire allo studente di lavorare da casa e in prima battuta da solo quindi le lezioni sono degli audio nel nostro caso saranno fondamentalmente di video che assegno che vi faccio vedere e che voi vedendoli e cercando di riprodurli con il vostro Blender riuscite ad andare avanti nell'acquisizione delle competenze e della conoscenza in Blender il lavoro in classe invece è molto più ristretto nel senso che pur essendo fondamentale nel senso che lo facciamo perché lo facciamo perché il docente o comunque chi spiega io o i tutor diciamo riesce ad approfondire alcuni argomenti studiati a casa e si cerca insomma di discutere o di risolvere eventuali blocchi che vengono che possono nascere no in partenza e il tutto serve per diventare per costruire una conoscenza condivisa e una community quella che viene chiamata anche comunità di pratica questo è molto interessante il fatto di costruire questo momento collettivo quindi anche un po' paritario per alcuni versi è una cosa fondamentale perché aiuta ad acquisire sia la manualità che le competenze le conoscenze di Blender nel nostro caso quindi vedete che la cosa fondamentale è che non c'è più un teacher che insegna frontalmente ai suoi studenti che acquisiscono passivamente ma nella classe capovolta sono gli studenti che si auto-organizzano ma sono facilitate dalla figura dell'insegnante che l'insegnante praticamente ha il compito di aiutare gli studenti dando gli stimoli l'entusiasmo la valutazione ma anche e soprattutto la capacità di auto-valutazione per cui gli studenti possono diciamo imparare bene insomma infatti la cosa fondamentale è l'auto-valutazione dell'apprendimento siete voi stessi che riuscite apprendendo individualmente a capire se state andando bene o se state andando male no? e inoltre il fatto che ci siano queste lezioni disponibili su internet su youtube in questo caso come anche questa registrazione consente allo studento di rivedere quante volte vuole la lezione senza perdersi nulla questo più o meno adesso poi lasciamo perdere le altre diapositive ma il senso della classe capovolta va bene abbiamo presentato quindi tutte le cose fondamentali nella lezione abbiamo in realtà visto un po' di cose interessanti nel senso che in realtà abbiamo chiesto ai presenti le difficoltà su cui si sono scontrati nel fare i compiti cioè quindi nel fare le varie realizzazioni la sedia eccetera quindi per farlo abbiamo di fatto lanciato blender quindi adesso lo vedete direttamente quindi io uso la versione 278c per quanto ogni tanto dica che vanno bene anche le altre versioni abbiamo visto che forse alcune funzionalità che ho fatto vedere funzionano solo sulla 278c quindi probabilmente è utile che li allineate anche voi quindi lanciamo il nostro blender il nostro blender parte e abbiamo questa struttura di blender che ormai più o meno conoscete ora uno dei primi trucchi che abbiamo fatto vedere è stato risolvere delle difficoltà che possono avere le persone che non hanno il tastierino numerico perché io ho detto 1 il tastierino numerico 3 7 il tastierino numerico tra l'altro lo faccio vedere meglio qua con i tasti vedete 1 numpad 1 3 numpad 3 7 numpad 7 però chi ha mac ad esempio non ha accesso al tastierino numerico e quindi cosa deve fare deve andare file user preferences e andare su input e dire emulate numpad emulate numpad vuol dire che i tastini 1 3 5 7 che devono essere fatti vengono in realtà mappati non sul tastierino numerico ma sui numeri effettivamente disponibili in questo caso l'ho già impostato quindi per fare 1 posso premere 1 3 5 7 e ottenere lo stesso effetto del tastierino numerico però devo averlo abilitato da qua e poi ricordatevi di fare poi save user settings altra cosa che consigliavo a chi ha il mac è di emulare il 3 button mouse questo perché emulando il 3 button mouse operazioni come questa credo che l'orbiting che io faccio con vedete che dall'iconcina si vede che è il tastino centrale del mouse in realtà si dovrebbe poter fare con alt e tasto sinistro e quindi si riescono a fare praticamente alcune cose cioè si riesce a emulare qualcosa non tuttissimo ma comunque è già parecchio quindi per chi ha il mouse diciamo per chi ha il mac questo è già un punto di pertenza interessante no? una delle prime cose che mi sono state chieste è come mettere un'immagine sullo sfondo che molti non ci sono riusciti quindi passiamo a questo argomento quindi il video dell'uovo di pasqua in particolare non non faceva vedere chiaramente questa operazione ve la faccio vedere anche in questo video come si fa? allora bisogna andare qui dove si apre questa finestrella background image e poi si fa add image e poi nell'add image si apre un'immagine e l'immagine che prendiamo vedete che qui ho scaricato un uovo quindi prendo l'uovo e faccio l'open dell'image e lui in teoria ce l'avrebbe ma non la vedo perché non la vedo? per il semplice motivo che per vederla devo essere in modalità orto il default di blend quando si entra è perspective quindi se sono in questa modalità non riuscirò mai a vedere l'uovo comunque mi muova 1,3,5,7 niente quindi devo mettere la modalità orto 5 ma poi devo comunque essere in una delle modalità 1,3,7 quindi o di fronte o di lato o dall'alto e allora vedo l'immagine quindi questo è il meccanismo con cui notate che se non avete il famoso tastellino numerico non siete in grado di fare questa operazione ok poi cosa abbiamo fatto? abbiamo fatto un piccolo esempio di costruzione nel senso che abbiamo preso questo cubo siamo entrati in edit mode col tab in questo caso e poi abbiamo fatto vedere come si facevano a fare degli anelli quindi ctrl r ctrl r praticamente attenzione che dovete essere per forza in edit mode per fare questa operazione facendo ctrl r e mettendo di vicino uno spigolo che volete tagliare vedete che compare una scanalatura un anello un edge loop come lo chiama e poi con la rotellina ne faccio diversi di questi anelli visto che la rotellina sul mac non c'è posso fare ctrl r e poi fare due per averne due se ho sbagliato faccio esc quindi facciamo ctrl r ne mettiamo due e poi tasto destro del mouse niente nella tasto destro del mouse facciamo ctrl r 2 invio e poi tasto destro del mouse e così abbiamo questi due edge loop facendo due edge loop siamo in grado di fare l'esempio l'inizio della sedia e per fare la sedia abbiamo detto che possiamo fare s e scalare tutto lungo la x quindi se noi facciamo s x vedete che possiamo spostarlo e l'idea era quella di delimitare dei segmenti delle fetucce laterali sia in una direzione che nell'altra il problema è che non sappiamo farlo perfettamente e quindi avevamo faccio il tasto destro per farlo and do e quindi abbiamo abilitato il magnete che fa lo snapping sui punti fissi cioè se lo vediamo qui è incremento si chiama quindi avendolo abilitato questo punto avendo fatto s x vedete che quando lo muovo non si muove più tutto linearmente ma scatti quindi posso contare il numero di scatti quindi qui faccio 1 2 3 4 5 6 ad esempio però questi scatti visto che sono discreti consentiranno di di fare di essere sicuri che quando poi lo farò sull'altro lato quindi farò un ctrl r qua 2 invio tasto destro se faccio sy questa volta vedete che posso ecco 1 2 3 4 5 6 quindi più o meno questo ecco sono ragionevolmente sicuro di fare una cosa simile come dimensioni in realtà vedete no non è proprio presse y ecco così è più esatta quindi mi metto 7 per dire così lo vedo e sono sicuro che sia giusta ok allora una volta fatto questo mestiere poi possiamo andare in selezione delle facce e possiamo col tasto destro selezionare una faccia fare il tasto destro selezionare sempre con lo shift selezioniamo tutte le altre facce e poi possiamo tirare su vedete che non succede niente eh no non era questa appunto dunque ripartiamo dalla perché in realtà non volevo tirare su queste facce ma volevo estruderle estruderle praticamente devo fare proprio E Z per estrudere verso l'alto e così le tiro su il fatto che adesso abbiamo però attivato il magnete mi sembra che non le tiri su ma in realtà le tira su a spezzoni eh quindi dobbiamo essere sicuri quindi Z e facciamo le tiriamo su praticamente in questo modo e siamo sicuri che le tira su in maniera omogenea quindi questo era l'esempio che abbiamo visto sullo sgabello adesso vedrete che questo sgabello lo scarichiamo su OpenSIM adesso taglieremo un attimo il video per brevità lo faccio uno solo sgabello ma comunque l'idea è adesso lo vedrete che è solo per farvi vedere come esportarlo e importarlo in OpenSIM per vedere come viene ok allora qui dobbiamo fare il bevel CTRL-B per arrotondare un pochino gli spigoli questa è una buona norma in generale e però prima di fare il bevel si consiglia di fare Object Apply Rotation Scale questo serve per mettere a 1 la scala e a 0 la rotazione avendo fatto questo poi dobbiamo andare in Edit Mode fare il CTRL-B attenzione che se fate CTRL-B mentre siete in Object Mode compare una cosa diversa cioè questa cosa qua che serve a tutta un'altra cosa e se la fate vi appare questa specie di bordo rosso che ha un suo scopo ma che non vi spiego adesso ma se lo fate fate CTRL-ALT-B e lo togliete oppure se fate CTRL-B per errore fate Escape perché in realtà il CTRL-B lo dovete fare mentre siete in Edit Mode adesso qui facciamo CTRL-B mentre siamo qua dentro dovete però selezionare tutti gli spigoli tutto facciamo CTRL-B e a questo punto muovendo leggermente il mouse vedete che potete controllare quanto volete fare arrotondato gli spigoli conviene non esagerare perché così dipende da quello che volete ottenere potrebbe anche andare bene così però forse è meglio non farlo appena accennato quindi fare gli spigoli così perfetto questo qui è il nostro è il nostro scabello un'altra cosa che si può fare in Object Mode è quello di fare lo Shading Smooth che permette di vederlo proprio arrotondato abbiamo visto che questa tecnica permette di risparmiare anche apparentemente risparmia peso su OpenSIM come facciamo a prendere questo oggetto e esportarlo su Craft semplicemente facciamo File Export Collada e qui ci accertiamo di beh innanzitutto ricordiamoci che dobbiamo aver selezionato l'oggetto in Object Mode ma qui facciamo Operator Presets e poi SL più OpenSIM Static è proprio scritto qui lo prendiamo così e lo esportiamo come sgabello 1 e lo mettiamo sotto Documents quindi esportiamo con l'ADA lui si è esportato e a questo punto noi possiamo andare dentro OpenSIM e fare Build Upload Mesh Model documento abbiamo il nostro sgabello 1 punto dae lo apriamo et che vi fa vedere il numero di vertici che ha qui lo possiamo con premendo il tasto sinistro del mouse e poi CTRL ruotarlo insomma vedere un po' come viene che verrebbe lo chiamiamo sgabello 1 e poi calcoliamo il peso e le tasse e poi facciamo un upload a questo punto sui recenti compare sgabello 1 questo qui possiamo portarlo direttamente qua ecco evidentemente mi vuole male questo fast perché anche ieri a lezione ci piegava sempre un sacco a rezzarlo quindi suppongo che lo lo rezza allora quindi è un problema del mio qui non la non lo sta rezzando o non sta rezzando dove gli dico io comunque la tecnica è questa adesso facciamo una cosa facciamo lo indossiamo ecco ah si vedi adesso l'ha fatto venire indossandolo tipicamente lo fa comparire quindi magari mettere un registro già lo dettagiamo ok e quindi vedete che l'oggetto praticamente è stato rezzato qui da noi e possiamo spostarlo girarlo insomma quello che vogliamo per comporre diciamo anche delle architetture quello che avevo fatto notare a lezione era che questo oggetto diventa non è fantasma ma è proprio vero nel senso che questo oggetto ci si può camminare sopra quindi con un pochino di precisione si posso camminare sopra vedete e diventa fondamentalmente un qualche cosa di usabile di usabile all'interno di una scena nei mondi virtuali quindi in OpenSIMO in Second Life ok adesso lo togliamo e vediamo qualche altra cosa che ho fatto vedere va bene quindi più o meno ho fatto vedere gli sgabelli ho fatto vedere questa cosa qua ah ecco l'avevo fatto vedere quindi qui questo punto questo sgabello lo possiamo anche togliere magari lo togliamo direttamente con in Object Mode facciamo Cancia e poi avevo fatto vedere come un po' fare la stessa operazione su un su un pezzo di palizzata quindi avevo fatto un cubo questo cubo l'avevamo quindi S Y no? l'avevamo ancorciato in modo tale da da essere ancorciato sulla Y con uno spessore intanto lo spessore lo possiamo vedere anche qua Y sono 10 cm circa alto un metro Z la possiamo alzare un po' quindi alto un metro e otto e sulla X lo accorciamo quindi SX lo accorciamo e lo facciamo diventare 20 cm quindi questo per esempio oppure leggermente di più SX 24 cm quindi abbiamo visto questo qui essere il nostro ah qui tra l'altro l'uovo sottofondo possiamo anche toglierlo quindi via ci dà fastidio quindi questo abbiamo detto che è il nostro il nostro asse della palizzata poi abbiamo visto che questo asse potremmo aggiungere degli edge loop quindi quindi ctrl R magari in edit mode ctrl R e poi gliene metto un tot di edge loop ok ecco i distanti va bene e poi cosa abbiamo visto gli abbiamo detto che facciamo A e gli facciamo ctrl B per fargli il bevel ecco qua la cosa prima di fare il bevel abbiamo detto ci accertiamo sempre in object mode di aver fatto l'apply del rotation in scale edit mode facciamo ctrl B ecco ecco probabilmente il fatto di applicare il rotation in scale era per poter avere sempre i bordi controllabili perché se non avessimo fatto l'apply scale probabilmente reagisce cioè diventa più difficile da gestire quindi vedete che l'abbiamo fatto quindi aggiunto dei edge loop e l'abbiamo fatto un po' arrotondato e poi se proprio volessimo questo qui gli facciamo lo smooth ma non è necessario nel caso di un asse potrebbe non essere necessario fare lo smooth perché gli assi sono proprio tagliati quindi magari rendono anche meglio non smutati lo smooth serve proprio quando si vuole proprio dare il senso della rotondità che in questo caso non è detto che sia un asse di legno l'ideale poi cosa abbiamo fatto abbiamo fatto vedere modificatore array array abbiamo visto che vabbè durante l'edizione abbiamo visto che l'aveva fatto lungo l'asse Y quindi era venuto un pochino storto ma qui è giusto perché l'abbiamo fatto lungo la linea rossa e quindi qui abbiamo uno va bene il default che ci da lui per allontanare i vari assi l'un con l'altro abbiamo fatto questo abbiamo aumentato questo numero che prima era uno abbiamo messo uno e qualche cosa 1,2 più cambiamo questo e più si allontana e poi abbiamo messo un certo numero di questi oggetti quando siamo soddisfatti del nostro insieme di assi dobbiamo andare in edit mode e fare l'apply ah in edit mode no in object mode dobbiamo essere facciamo l'apply e a questo punto le assi sono tutte diverse e possiamo cominciare a fare quel discorso che abbiamo visto nel video quindi per dire abilitiamo questo possiamo anche togliere questo perché ci da fastidio e mettiamo il dunque il proportional editing quindi selezioniamo un un vertice magari ecco un vertice poi facciamo G e ce lo spostiamo magari aumentiamo l'effetto e quindi possiamo fare quegli effetti che abbiamo visto nel video che ci permettevano di dare delle delle modifiche alle posizioni quindi questa è solo una ripetizione perché ho visto che alcuni avevano difficoltà ah una cosa ancora che vi ho fatto vedere era la selezione con Z perché se per caso adesso con il proportional in realtà non si vede ma supponete che volessimo non usare il quindi disabilitiamo il proportional e supponiamo che di fronte vogliamo alzare tutto questo questo ultimo pezzo in su quindi se volessimo farlo cosa possiamo fare B per selezionare mentre siamo in edit mode e poi selezioniamo tutti i punti e poi li portiamo su ah tra l'altro attenzione vedete che qui mi ero dimenticato un punto selezionato quindi CTRL Z A togliamo tutta la selezione ripartiamo con B e selezioniamo questa posizione tiriamo su allora noi sembra di aver fatto tutto bene ma in realtà vedete che abbiamo fatto una cosa un po' strana perché? perché abbiamo selezionato solo i punti frontali cioè quelli che si vedono CTRL Z quindi per essere sicuri di prendere tutti i punti anche quelli nascosti dietro andiamo nella vista della GX con Z vedete che diventa tutto come fosse trasparente A e poi ripetiamo la selezione e poi questo lo tiriamo su e a questo punto magari togliamo il lo Z e vedete che a questo punto ce l'ha veramente alzato come a noi ci interessava buono quindi questo object mode abbiamo fatto anche questo pezzo forse una delle ultime cose che abbiamo visto è stata di come mettere un'immagine in un piano l'abbiamo visto in un modo un pochino non ortodosso in un modo un po' eterodosso nel senso che siamo andati appunto qui in object mode e abbiamo fatto un shift A abbiamo messo un piano magari ci mettiamo così ok il piano vedete che no però l'abbiamo già spostato quindi il trucco famoso che abbiamo fatto non funziona più quindi lo cancelliamo facciamo shift A piano ecco la cosa interessante è prima di fare qualunque cosa perché se non appena lo muoviamo spariscono le capacità di creare il piano con le UV le UV è il modo per mettere facilmente le immagini infatti noi questo piano dopo vi è detto generate UV ce lo spostiamo e poi su questo piano vogliamo piazzarci un'immagine l'immagine come facciamo a piazzarla sul piano dobbiamo andare sull'opzione materiale e poi qua gli dobbiamo mettere il materiale che in questo caso c'è già material se no facciamo new e facciamo material e il materiale che gli mettiamo adesso qui vi insegno a farlo col cycles che tra parentesi probabilmente tra un anno diventerà il default quindi imparate a usarlo use nodes che vedremo la prossima serie di lezioni che sarà molto interessante e poi sul color gli mettete immagine e gli mettete o aprite o selezionate l'immagine che già avete dell'uovo quindi adesso in teoria avendo fatto quella UV automatica se noi andiamo in modalità material vedete che l'uovo risulta già associato invece abbiamo visto che senza questa caratteristica bisogna proprio creare l'UVMAP nei modi che ho descritto nei vari video ma adesso qui serviva solo per spiegarvi che alternativamente R Y voi potete prendere delle immagini di riferimento vedete che qui si muove non so come metterlo dritto però se io metto il magnete tanto per farvi vedere un altro modo insomma di vedete che qui si muove a scatti e quindi è più facile che riesca a trovare quando è dritto oppure semplicemente lo guardo di lato R vedete che e quindi riesco più facilmente a metterlo dritto oppure oppure ancora posso fare R90 per dire e lui entra dritto ok poi qui possiamo fare R Y90 per averlo più o meno come voglia quindi questo è un altro modo per allineare le texture bene può anche darsi che davanti alla lezione abbia detto qualcosa altro qualcosa di leggermente diverso ma credo che super giù abbia dato l'idea insomma e i piccoli trucchi di quello che è possibile fare quindi mi aspetto che voi partecipiate soprattutto se avete delle difficoltà ai laboratori e noi comunque ci vediamo fra tre settimane per adesso è tutto buona serata e buon lavoro